carissimi amici bentornati a una nuova puntata del ciclo di carri casi dedicata a maria di magdala come narrato dagli iscritti di maria voltorta siamo giunti a un momento già abbastanza avanzato nel percorso di maria oggi vedremo un paragrafo cominceremo con un paragrafo molto molto bello dove si si vede il titolo molto molto emblematico un particolare molto importante cioè che nelle vicende di conversione fondamentalmente c'è un cambio di oggetto verso cui si spostano le nostre facoltà superiori e inferiori la persona convertita non è un'altra persona nel senso che c'è uno stravolgimento della sua umanità intesa in senso buono perché la peculiarità tipica di ciascuno e la personalità tipica di di ogni essere umano e hanno come causa prima dio ma anche la nostra volontà che poggiando indirizzando la nostra persona verso posizioni prospettive scelte aliene da dio dalla sua volontà ci fa diventare brutti ma basta semplicemente ricorreggere il tiro ricalibrare ricalibrare il tiro spostare l'oggetto delle nostre attenzioni che tutto diventa assolutamente bello il titolo di questo paragrafo nuovo che ci andiamo adesso a gustare si chiama appunto ha cambiato direzione alla sua potente facoltà di amare maria di magdala aveva questa grande energia questa grande risorsa una dice gesù no nella casa del fariseo le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato e cosa ha fatto ha investito un tempo questa sua facoltà in che cosa negli amori illeciti quindi nell'essere un amante come dire anche vorrei essere troppo andare troppo sull'esplicito no amante anche sotto quel punto di vista intraprendente probabilmente passionale è accesa adesso ha cambiato oggetto e l'oggetto diventa gesù per questo che sappiamo che maire di magdala ha visto gesù risorto per prima ovviamente dopo la madonna non perché avesse conservato la fede la fede nella risurrezione l'ha conservata soltanto maria santissima ma perché aveva conservato l'amore l'ha visto per forza d'amore perché andata al sepolcro ha cominciato a piangere non si poteva di staccare da lì perché pur pensando che avessero portato via il corpo morto di gesù per lei era era la fine del mondo perché passi che è morto ma se mi porti pure il corpo morto è la morte assoluta per me ed è per questo suo essere rimasta lì a piangere sulla tomba il pianto dell'amante innamorata che ha visto gesù risorto per prima quindi è sempre per questa grandissima forza d'amore che avrebbe poi condotto quella vita da super penitente che sicuramente insomma ne ha causato il paradiso immediato non sono chiaro vedremo poi quando ci arriveremo come è morta meriti magda non è che ha scherzato con con il dovere di fare penitente delle corpi non è affatto scherzato insomma è andata giù di brutto molto pesante quindi avremo modo di di vederlo leggiamo il paragrafo così come sempre con qualche piccola sosta di commento sono tutti riuniti nella vasta stanza superiore il temporale violento si è risolto in una pioggia persistente che ora si fa lieve fin quasi a sospendere e ora infettisce con improvvisa furia il lago non è certo azzurro oggi ma giallastro con strie di spume nei momenti di vento e acquazzone grigio plumbeo con spume bianche nelle soste dell'acquazzone le colline tutte grondanti d'acqua con le fronde ancora piegate pertanto che sono molli di pioggia con qualche ramo che pende spezzato dal vento e molte foglie strappate dalla grandi ne mostrano righe di ruscedi da ogni parte acque giallognole che riversano nel lago foglie sassi terra rapita dalle chine la luce è rimasta offuscata per donio nella stanza sono sedute verso una finestra che guarda le colline maria con marta e la maddalena più due altre donne che non so di preciso chi siano ma ho l'impressione che siano già conosciute da gesù e da maria e dagli apostoli perché sono a loro agio certo più della maddalena che sta ferma ferma capochino fra la vergine e marta gli abiti riasciugati alla fiamma spazzolati dal fango sono stati rimessi ma dico male è stato indossato dalla vergine il suo di lana azzurro cupo ma la maddalena ha una veste di imprestito corta e stretta per lei alta e formosa e cerca di riparare alle manchevolezze della veste stando avvolta nel mantello della sorella si è raccolta i capelli in due grosse trecce annodandosene sulla luca in qualche modo perché per sostenere quel peso ci vuole ben più delle poche forcine racimolate lì per lì infatti dopo io ho sempre visto che la maddalena aiuta le forcine con un nastrino che le fa quasi un diadema sottile perdendosi col suo colore paglia nel loro dei capelli dall'altro lato della stanza seduti chi su sgabelli chi sui davanzali delle finestre sono gesù con gli apostoli e il padrone di casa manca il servo di marta pietro gli altri pescatori studiano il tempo facendo pronostici per il domani gesù ascolta oppure risponde a questo e a quello ad averlo saputo di questo avrei detto a mia madre di venire ebbene che la donna sia messa subito a suo agio con le compagne dice giacomo di zebedeo sbirciando verso le donne è ad averlo saputo ma perché poi la mamma non è venuta con maria chiede il taddeo al fratello giacomo e non lo so me lo chiedo anch'io ma non si sentirà male ma no maria lo avrebbe detto io glielo chiedo e il taddeo va dalle donne si sente la voce limpida di maria maria la madre di gesù rispondere sta bene sono stata io che gli ho evitato uno strapazzo con questo caldo siamo scappati come due bambine non è vero maria maria è venuta sera oscura e all'alba siamo partite non ho detto che ad alfeo ecco la chiave tornerò presto dillo a maria la madre di giuda taddeo e giacomo e sono venuta dice gesù torneremo insieme madre non appena il tempo sarà buono e maria avrà una veste noi andremo tutti insieme per la galilea accompagnando le sorelle fino alla via più sicura così saranno conosciute anche da porfirea da susanna dalle vostre moglie e figlie filippo e bartolomeo è squisito quel dire saranno conosciute per non dire maria sarà conosciuta è forte anche e abbatte tutte le prevenzioni e restrizioni mentali degli apostoli verso la redenta la impone vincendo le rinuntanze di loro le vergogne di lei tutto marta spende nel viso maria maddalena avvampa è uno sguardo supplici e riconoscente turbato che so maria santissima il suo sorriso soale dove andremo per primo luogo maestro abbe zaira poi per magdala tiberiade cana nazareth di lì per giafia e semeron andremo a betlemme di carilea e poi a sicaminon e a cesarea gesù è interrotto da uno scoppio di pianto della mandalena alza il capo la guarda e poi riprende come nulla fosse a cesarea troverete il vostro carro ordinato così al servo e andrete a betania ci rivedremo poi ai tabernacoli maddalena si riprende presto e non risponde alle domande della sorella ma esce dalla stanza ritirandosi forse in cucina per qualche tempo maria soffre gesù dice marta nel sentire che deve venire in certe città bisogna capirlo lo dico più per i discepoli che per te maestro dice umile e affannata marta è vero marta ma così deve avvenire se ella non affronta subito il mondo e non strozza quell'orrendo aguzzino del rispetto umano rimane paralizzata la sua eroica conversione subito e con noi ecco adesso qui per forza devo cogliere al volo questa notazione di gesù per spendere qualche parola sopra così deve avvenire cioè marta abbiamo sentito le città dove gesù prospettava di passare no magdala tiberiade quello era un po il quartier generale della vita mondana di maria di magdala se vado lì devo affrontare i ricordi devo affrontare gli sguardi devo affrontare l'ambiente no e gesù mica gliela risparmia dice no no ci dobbiamo proprio che andare deve affrontare il mondo subito e deve strozzare attenzione quell'orrendo aguzzino del rispetto umano che fai ti vergogni adesso di farti vedere vedete la ti vergogni di farti vedere con una veste di messa senza tutto da fuori senza quella ricercatezza seduttrice non soltanto che bisogna farlo ma bisogna farlo presto perché altrimenti rimane paralizzata la sua eroica conversione allora amici cari quando noi ci siamo convertiti non c'è niente di cui vergognarsi niente queste quante persone come dire si vergognano un po' o a volte per esempio rinunciano a come dire a esternare la propria conversione anche con cambiamenti percepibili anche nell'esteriore per paura di poi prendersi le critiche, i rimbrotti i risolini, le cose ma questo è il peccato di rispetto umano cioè quando si tratta di fare qualcosa per il signore e noi sappiamo in coscienza che omettiamo di farlo perché dice no 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 dopo chi lo sa che pensano no 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 dopo chi lo sa che mi dicono no 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 dopo chi lo sa come reagiscono questo è il rispetto umano amici cari c'è soltanto una cosa di cui dobbiamo vergognarci anche davanti agli uomini del peccato allora cara Maria di Magdala disse Gesù non ti sei vergognata di dare pubblico scandalo con il peccato certo adesso non ti devi assolutamente vergognare di dare pubblica edificazione mostrandoti convertita e come mia dicevo specialmente quando una persona ha sbagliato a maggior ragione deve poi dare dei segnali anche esterni dove si percepisca che quella persona come dire sa di aver sbagliato e se ha scandalizzato qualcuno è pronta a riparare tutto qui allora riprendo la lettura basta così con noi nessuno ne dirà nulla te lo assicuro Marta anche per tutti i compagni miei promette Pietro ma certo la circonderemo come una sorella così ha detto Maria che ella è e così sarà per noi conferma il Taddeo e poi siamo tutti peccatori e il mondo non ci ha risparmiato neppure noi comprendiamo perciò le sue rotte dicevo Zerone io più di tutti la capisco e questo è Matteo che sta parlando Matteo Matteo poi l'ex pubblicano nei posti dove peccammo è molto meritorio vivere le persone sanno chi siamo è una tortura ma è anche una giustizia e una gloria resistere lì appunto perché è palese in noi la potenza di Dio noi siamo oggetto di conversioni anche senza usare parole sentite il grande Matteo che cosa ha detto questo bisogna fare un'altra standing ovation a Matteo evangelista apostolo ed evangelista è una tortura è una tortura ma è anche una giustizia e una gloria resistere lì è giusto perché bisogna riparare hai dato scandalo dato cattivo esempio e adesso devi fare il contrario questo Dio se l'aspetta ma non soltanto questo perché è proprio 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 che è stato un grande peccatore quindi che ha dato scandalo che solo la presenza causa conversione senza usare parole non serve parlare basta guardare dice Matteo ora tu vedi Marta che tua sorella è compresa da tutti e amata da tutti e lo sarà sempre di più credo che sia Gesù che stia adesso parlando al termine del paragrafo sì lei diverrà un segno indicatore per tante anime colpevoli e pavide paurose non dobbiamo mica avere paura degli uomini non temete coloro che uccidono il corpo dice Gesù nel Vangelo e dopo non possono fare nient'altro ti prendono in giro e allora che problema c'è che problema c'è anzi se mi prendono in giro a causa del Signore lo faccio apposta la faccio perché Gesù l'ha detto guai quando tutti quanti gli uomini ti danno male di voi eccetera eccetera no quindi bellissimo se qualcuno ci prende in giro ma meglio ancora evviva fantastico sono tutte quante medaglie no fantastico dobbiamo essere segni 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 e vi ripeto per essere segno dobbiamo fare attenzione all'esteriore io posso dare l'impressione a qualcuno di essere fissato con certe cose impressione soprattutto quante legittime potreste che siamo vere il problema è che quello che noi siamo dentro che è la cosa più importante ovviamente ma perfettamente in pienezza lo conosce soltanto Dio ed è giusto che sia così d'accordo perché noi abbiamo tanti segreti con il Re d'accordo abbiamo la nostra vita intima dobbiamo imparare a vivere sotto i Suoi occhi non abbiamo niente e nessuno a cui rendere conto delle nostre azioni se non Dio solo oppure evidentemente se uno fa un reato una cosa di questo genere anche agli esseri umani ma se uno non fa nulla di oggettivamente sbagliato vive sotto gli occhi dell'altissimo e rende conto di quello che fa all'altissimo però i nostri comportamenti esterni sono importanti i nostri atteggiamenti esterni animi colpevoli e pavide paurose ogni volta ricordiamo sempre la Madonna gli scritti del Padre Bavonte quello che hanno detto i diavoli questa non ci ha avuto mai paura non si è mai spaventato non siamo mai riusciti a fargli bau bau a mettergli paura sapete adesso ci sono tante guerre che incombono e poi prospettive di inesolabili castighi perché Dio purificherà la sua chiesa come usciamo con le tante situazioni ci sarà da soffrire tanto forse paura ma direi proprio di no non possiamo e non dobbiamo avere paura se viviamo in intima comunione con Gesù e con Maria allora lei diverrà un segno indicatore indicatore per tante anime colpevoli e pavide ma ha anche una grande forza una grande forza anche per i buoni perché Maria quando avrà frantumato le ultime catene della sua umanità sarà un fuoco di amore non ha che cambiato direzione all'esuberanza del suo sentimento ha riportato questa sua potente facoltà di amare in un piano soprannaturale e Ivi compierà prodigi ve lo assicuro ora è ancora turbata ma la vedrete giorno per giorno pacificarsi e irrobustirsi nella sua nuova vita in casa di Simone ho detto molto le è perdonato attenzione perché molto ella ama ora io vi dico che in verità tutto le sarà perdonato perché ella amerà con tutta la sua forza la sua anima il suo pensiero il suo sangue la sua carne fino all'olocausto il suo dio bellissimo no? molto e tutto il vertice a cui giunge l'amore di Maria di Magdana cambiando appunto piano passa dal piano naturale al piano soprannaturale passa dai lubrici e luridi amori umani a quelli santi e benedetti che sono quelli divini ora c'è un altro episodio da un fanciullo imparo la preghiera insegnata da Gesù ho questo fanciullo un fanciullo che non sembra risultare dai vangeli ma che risulta dagli scritti di Maria Valtorta è il famoso Marziam che è un orfanello che Gesù ha accolto e che Pietro che era sposato a Porfiria ma senza figli attraverso l'intervento deciso di Maria Santissima perché Gesù non voleva lo ha ottenuto in adozione Gesù non voleva perché temeva che Pietro legandosi a questa creaturina avrebbe potuto avere qualche remora per svolgere adeguatamente la sua immensa missione di essere il primo vicario di Gesù in terra dopo la sua partenza leggo è tornato il sereno sul mare di Galilea tutto anzi più bello di prima della tempesta perché si è ripulito dalla polvere l'atmosfera di un nitore assoluto e l'occhio guardando il firmamento ha l'impressione che si sia alzato fatto più leggero un velario quasi trasparente steso fra la terra e i fungori del paradiso il lago rispecchia questo azzurro perfetto e ride con le sue acque di Turchese è un inizio di Aurora Gesù con Maria Marta e Magdalena sale sulla barca di Pietro con lui sono oltre che Pietro e Andrea anche lo Zelote Filippo Bartolomeo Matteo Tommaso i cugini di Gesù gli Scariota invece sono sull'altra barca di Giacomo e Giovanni puntano diritti verso Bezzaida un breve tragitto che il vento favorisce il percorso è fatto in pochi minuti quando stanno per giungere Gesù dice a Bartolomeo l'inseparabile Filippo andrete ad avvisare le vostre donne oggi verrò in casa vostra e fissa i due in maniera eloquente sarà fatto maestro non concedi nemmeno a Filippo di averti non ci tratteniamo che fino al tramonto non voglio privare Simon Pietro della gioia di godersi di Marzia mi risponde Gesù la barca striscia sulla riva e si ferma scendono e Filippo e Bartolomeo si staccano dai compagni per andare in paese dove vanno quei due chiede Pietro al maestro che è sceso per primo ed è al suo fianco ad avvisare le loro donne ma vado anch'io ad avvisare Porfire allora non occorre Porfire è tanto buono che non occorre preparare a nulla il suo cuore non sa che dare dolcezza Simon Pietro splende sentendo la lode della sua sposa e non dice altro sono intanto scese le donne per le quali è stata messa una tavola a fare da barcarizzo e vanno a casa di Simone li vede per primo Marziam che sta uscendo con le sue bucorelle per portarle a brucare l'erba fresca sulle prime pendici di Bethsaida e con uno strillo di gioia dall'annuncio correndo a rifugiarsi sul petto di Gesù che si è curvato per baciarlo poi va da Pietro a correre con le mani infarinate Porfire e si curva nel saluto pace a te Porfire non ci attendevi tanto presto non è vero ma ti ho voluto portare mia madre e due discepoli oltre che la mia benedizione mia madre desiderava rivedere il bambino eccolo là fra le sue braccia e le discepoli desideravano conoscerti questa è la moglie di Simone la discepola buona e silenziosa attivano la sua obbedienza più di molti altri e queste sono Marta e Maria di Betania due sorelle vogliatevi bene quelli che tu mi conduci mi sono più cari del sangue mio maestro vieni la mia casa si fa più bella ogni volta che tu vi metti i piedi Maria si avvicina sorridente e abbraccia Porfire dicendola vedo che in te è veramente viva la madre il bambino ha già prosperato ed è felice grazie oh donna più di anni ogni altra benedetta so che per te io ho avuto la gioia di essere chiamata mamma e tu sappi che non ti darò il dolore di non esserlo con tutto il migliore che in me entra entra con le sorelle Marziam guarda curiosamente la Maddalena tutto un lavoro di pensieri si forma nella sua testa infine dice però a Betania tu non c'eri non c'ero ma ora ci sarò sempre dice la Maddalena con un sorriso con un rossore un accenno di sorriso e carezza il bambino e dicendo anche se ci conosciamo solo ora mi vuoi bene sentite che cosa dice Maria di Magdalena fa tanta tenerezza qui no anche se ci conosciamo solo ora mi vuoi bene sì perché sei buona hai pianto non è vero è per quello che sei buona e ti chiami Maria non è vero anche la mia mamma si chiamava così ed era buona tutte le donne che si chiamano Maria sono buone però termina per un altro l'orevo fine Marta però ce ne sono di buone anche quelle di un altro nome tua mamma come si chiamava Eukeria ed era tanto buona e due lacrimoni cadono dagli occhi di Maria di Magdala piangi perché è morta chiede il bambino e la carezza sulle bellissime mani incrociate sulla veste scura certo una di Marta adattata a lei perché mostra l'orlo abbassato e aggiunge ma non devi piangere non siamo soli sai le nostre mamme ci sono sempre vicine lo dice Gesù e sono come angeli custodi anche questo lo dice Gesù e se si è buoni ci vengono incontro quando si muori e si sarà Dio e abbraccia la mamma ma è vero sai lo ha detto lui ma le dimanca la braccia stretto il piccolo confortatore e lo bacia dicendo prega allora che diventi così buona e il bambino risponde ma non lo sei ma con Gesù non sono quelli che sono buoni e se non lo si è del tutto lo si diventa per poter essere discepoli di Gesù perché non si può insegnare se non si sa non si può dire perdona se prima non perdoniamo noi non si può dire devi amare il prossimo se prima non lo siamo noi la sai la preghiera di Gesù no dice Maria di Magdala ah già sei da poco con lui è tanto bella sai dice tutte queste cose senti com'è bella e Marziam dice lentamente il pater nostro con sentimento e fede come la sai bene dice ammirata Maria di Magdala me l'hanno insegnata la mia mamma di notte e la mamma di Gesù di giorno ma se vuoi te la insegno vuoi venire con me le pecorelle belano hanno fame ora le porto al Pasquale vieni con me ti insegnerò a pregare diventerai buona del tutto e le prende la mano ma non so se il maestro vuole e Gesù dice vai vai Maria hai un innocente per amico e degli agnellini vai pure serenamente Maria di Magdala esce col bambino e la si vede allontanata e la si vede allontanata e la si vede allontanata dalle tre pecorelle Gesù guarda e guardano gli altri povera sorella mia dice Marta ma non la compassionare è un fiore che raddrizza l'ostello dopo l'uragano senti ride l'innocenza conforta sempre bella questa frase è bellissimo questo dialogo con questo bambino qui si vede come poverina Maria di Magdala sta muovendo i primi passi si muove in un ambiente un po' un po' un po' cosino anche questo fanciullo dice ma tu non sei buona ma con Gesù fanno soltanto quelli che sono buoni e se non lo sono abbastanza poi lo devono diventare però perché se no non si può meritare il maestro bellissima questa frase di Gesù l'innocenza conforta sempre e la manda e gli dice guarda che stai con un innocente e con tre agnellini eh quindi tutte quante cose che possono e devono aiutare Maria di Magdala a come dire a rirespirare l'aria buona l'innocenza di un bambino l'innocenza anche degli agnellini gli agnelli gli agnelli fra sacrificali no? probabilmente Gesù è andata lì anche perché lui stava per per diventare l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo gli agnelli erano gli animali che venivano usati nel tempio per per i sacrifici rituali a Yahweh no? è per questo che Gesù chiamiamo l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo perché come scrive San Paolo quelle vittime vetro-testamentarie erano figure e ombra dell'unica vittima che adesso è rimasta non ci sono noi non offriamo nessun altro sacrificio a Dio liturgico che è quello del figlio che è la Santa Missa basta poi in privato possiamo offrire i nostri piccoli sacrifici le nostre preghiere penitenze digiuni elemosi tutto quello che vogliamo allora e adesso andiamoci a gustare che forse sarà l'ultimo o non lo so il ritorno di Maria di Magdala a Magdala è che si intitola non più peccatrice ma Vergine nello Spirito torna a Magdala Vergine nello Spirito la barca bordeggia il tratto da Cafarno a Magdala Maria di Magdala la prima volta è per la prima volta nella sua posa abituale riconvertita seduta sul fondo della barca ai piedi di Gesù che è invece osteramente seduto su una delle panchette della stessa barca il viso della Magdalena è oggi molto diverso da quello di ieri non è ancora il viso radioso della Magdalena che corre incontro al suo Gesù ogni volta che gli va a Betania ma è già un viso sgombro da timori e tormenti e l'occhio che prima era avvilito per quanto prima era ancora sfrontato ora è serio ma sicuro e nella sua dignitosa serietà brilla ogni tanto una scintilla di letizia ascoltando Gesù che parla con gli apostoli o con sua madre e Marta parlano della bontà di Porfirea così semplice e così amorosa parlano dell'accoglienza affettuosa di Salome e delle donne di Bartolome e Filippo e il medesimo dice se non fosse che sono ancora molto fanciulle la madre è contraria a saperle per le sue vie esse pure ti seguirebbero maestro mi segue mi segue l'anima loro dice Gesù ed è ugualmente santo amore e adesso qui c'è un inciso perché le figlie di Filippo veramente è stato vedremo poi cosa dice Gesù no il maestro svela a Filippo che era sua figlia maggiore che sta per essere promessa sposa ha invece deciso di sposare spiritualmente del Cristo e parla delle vergine che si consacreranno a lui per essere gigli nel suo giardino aiuole d'incense contro le sentine dei vizi anime oranti contro i bestemmiatori e gli ate allora qui dobbiamo sapere questo è un particolare meraviglioso che ci viene dagli scritti di Maria Valtorta proprio meraviglioso 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 che Gesù oltre agli apostoli si è costituito si era costituito fin da quando era ancora in vita il primo il primo nucleo di vergini consacrate affidandole alla Madonna c'erano alcune figlie degli apostoli tra l'altro Filippo adesso gli dice la prima e dopo un po' gli viene voglia pure la seconda e lì Filippo c'ha un colpo al cuore perché Gesù gli dice me la dai pure quest'altra solo che c'erano soltanto queste due figlie quindi la rinuncia ad una posterità quindi ad avere i nipoti è stata una botta per 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 Filippo non indifferente no ma chi se ne importa una vergine consacrata questo ecco è una delle più grandi benedizioni che possa esistere queste chiaramente non stavano in conventi monasteri perché ricordate no una donna può tranquillamente essere vergine consacrata quindi donare la vergine dal Signore senza entrare in convento o in monastero non tutte hanno questa chiamata dico Maria Valtorta stessa era una vergine Luisa Piccarreta era una vergine la beata credo Alexandrina Maria da Costa era una vergine soprattutto Santa Gemma Galgani era una vergine tutte quante vergini consacrate al Signore ma di più ma fuori convento sapete che la Madonna disse alla piccola giacinta di Fati ma l'ho proprio rivisto poco tempo fa che prima della catechesi stava ancora in full immersion per l'ultima revisione di un testo importante che sono i dieci comandamenti oggi mi hanno mandato l'ultima bozza da revisionare prima della pubblicazione quindi gli stavo dando un'occhiata e a proposito dei voti dei giuramenti citavo nel testo quello che la Madonna a Fatima disse alla piccola giacinta Dio desidera e anche io desidero anime che si legano anime vergine che si legano lui con il voto di castità e questi sono gigli per essere gigli nel suo giardino la purezza aiuole d'incensi contro le sentine dei vizi d'incenso e anime oranti contro i bestemmiatori e gli atei una vergine consacrata è un giglio di purezza che è questo che offre al signore che ripara la tossicamento tanto quel mare di fango e di lussuria nausea bunda che sale continuamente dal pianeta terra e incenso contro le sentine dei vizi incenso sapete che l'incenso c'è anche la mirra l'incenso il profumo che simboleggia sia la preghiera sia anche il sacrificio e poi animorante contro i bestemmiatori gli atei bellissima missione no? sposare spiritualmente il Cristo niente sposi umane e con l'arrivo del Vergine Gesù e della Vergine Maria finalmente comincia questa cosa nella Chiesa e la Chiesa ha sempre tenuto nella massima considerazione la verginità la verginità è stata sempre considerata di maggiore eccellenza sul matrimonio sempre anche se il matrimonio è il sacramento è il sacramento un magnum per carità d'accordo? ma la verginità gli animi cari è la verginità e dico queste cose perché una delle vergogne proprio assolute del nostro sciacurato per non dire di peggio tempo di apostasia piena è che non soltanto la verginità viene disprezzata viene calpestata ma non viene appunto riconosciuta come qualcosa di cui vergognarsi cioè ne sapete queste cose perché a me mi viene a riferire che ragazzine e ragazzine si arrivano tra 13-14 anni che ancora non hanno perso la verginità diventano la favola di tutti e questo è veramente vergognoso questo qui la verginità è una condizione che dura vita perché se uno non si sposa o se uno si fa frate o mora con il tuo convento rimane vergine oppure finisce con il matrimonio e finisce per essere donata ad una sola persona matrimonio monogamico nessuno al di fuori del coniuge deve conoscere l'altro coniuge nessuno e evidentemente perché questo ci sia ci deve essere una come dire una una sorta di di venerazione per lo stato virginale inviolato e intoccato va beh Maria di Magda l'apre le labbra per chiedere e lo fa arrossendo ancora ma con più spigliatessa degli altri giorni e noi le rovine che tu edifichi che diventiamo? vedete poverina no? lei insomma la vergine non era più quello che sono le sorelle vergine risponde Gesù oh non può essere abbiamo calpestato troppo fango e non può essere Maria Maria Gesù non perdona mai a metà ti ho detto ti ha detto che ti ha perdonato e così è tu e tutti coloro che come te peccarono e che il mio amore perdona e disposa profumerete pregherete amerete conforterete rese consce del male e atte a curarlo dove è anime che per gli occhi di Dio sono martiri cari perciò come le vergini martiri e in che maestro contro voi stessi i ricordi del passato e per sete di amore e di espiazione bellissima una grande peccatrice che si converte e che quindi ridiventa vergine come Gesù spiegherà nello spirito è anche una martire perché deve combattere i ricordi del passato e deve avere sete di amore e di espiazione perché da queste anime Gesù si aspetta che facciano penitenza e tanta e quella è un martirio lo devo credere la maddalena guarda tutti quelli che sono nella barca chiedendo conferma alla sua speranza che si accende chiedilo a Simone parlai di te e di voi peccatori in genere e in una sera stellata nel tuo giardino e i tuoi fratelli tutti li possono dire se la mia parola non ha cantato per tutti i ridenti i prodigi della misericordia e della conversione me ne ha parlato con voce di angelo anche il bambino sono tornata con l'anima rinfrescata da quella sua lezione mi ha fatto conoscere te meglio ancora di mia sorella tanto che oggi mi sentivo più forte per affrontare Magdala ora che tu mi dici questo io sento crescere la mia fortezza ho dato scandalo al mondo ma te lo giuro mio signore ora il mondo guardando me giungerà a comprendere che cosa è il tuo potere Gesù le posa per un momento la mano sul capo mentre Maria Santissima le sorride come lei sa fare paradisiacamente ecco Magdala stesa al bordo del lago adesso attenzione con il sole sorgente di fronte la montagna d'Arbella alle spalle che la protegge dai venti e la stretta valle dirupata e selvaggia di cui sbocca un torrentello nel lago che si inoltre verso l'occidente con le sue coste a picco piene di una bellezza fascinosa e severa maestro grida Giovanni dall'altra barca ecco la valle del nostro ritiro è splendido in volto come se gli si fosse acceso un sole nell'interno la nostra valle sì la è ben riconosciuta non si può non ricordare i luoghi dove si è conosciuto il Dio risponde Giovanni allora io ricorderò sempre questo lago perché su di esso ti ho conosciuto lo sai Marta che qui ho visto il maestro una mattina sì e per poco si va tutti a fondo noi e voi donna credi che i tuoi rematori non valevano uno spicciolo dice Pietro che sta facendo la manovra di approdo non valevano nulla né i rematori né chiara con essi ma è sempre stato il primo incontro e questo è un grande valore e poi ti ho visto sul monte poi a Magdala e poi a Caffarno tanti incontri tante catene spezzate ma Caffarno è stato il luogo più bello lì mi hai liberato scendono a terra dove sono scesi quelli dell'altra barca e entrano in città la curiosità semplice o non semplice dei Magdaliti deve essere come una tortura per la Magdalena ma la sopporta eroicamente seguendo il maestro che è avanti fra mezzo tutti i suoi apostoli mentre le tre donne sono dopo di loro il bisbiglio è forte l'ironia non manca tutti quelli che finché Maria era la signora prepotente di Magdala la rispettavano in apparenza per tema di rappresaglia ora che la vedono e la sanno staccata per sempre dai suoi amici potenti umili e casta si permettono di mostrarle anche disprezzo e lanciarle epiteti poco lusinghieri immaginate no? Marta che soffre quanto lei di questo le chiede vuoi tirarti in casa? no non lascio il maestro e lui prima che la casa sia purificata da ogni traccia del passato non lo invito là dentro ma tu soffri sorella me lo sono meritato e soffrite deve soffrire il sudore che le imperla la faccia il rossore che la copre fin sul collo non sono dovute solo al caldo vedete me lo sono meritato grande parola grande parola diciamolo spesso figlioli miei cari oppure quando abbiamo fatto qualche guaio non stiamo sempre a dire misericordia 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 diciamo al signore ho fatto un guaio chi c'ha il coraggio di dire così castigami adesso subito e io nel frattempo ti offrirò quello che ti posso offrire perché i tuoi santi occhi non ci abbiano più niente di macchiato da guardare in me ma mi si ricorda dopo è venuta prima per farci convertire adesso dopo traversano tutta Magdala andando nei quartieri poveri fino alla casa dove sostarono l'altra volta la donna rimane di stucco quando alzando il capo dal lavatoio per vedere chi la salute si trova di fronte Gesù e la ben nota signora di Magdala non più pomposa non più ingioiellata ma con la testa velata da un lino leggero vestita di viola vervinca un abito accollato stretto certo non suono nonostante che si sia lavorato a farlo tale fasciato in un mantello pesante che deve essere un supplizio con quel calore mi permetterai di sostare nella tua casa e parlare di qui a chi mi segue ossia tutta Magdala perché tutta la popolazione ha fatto coda al gruppo apostolico e me lo chiedi signore questa casa è tua e si dà da fare a portare sedi e panche alle donne e agli apostoli passando presso la mandalena a un inchino da schiava vedete pace a te sorella risponde questa e la sorpresa della donna è tale che lascia cadere il panchetto che ha fra le mani ma non dice niente l'atto però mi fa pensare che Maria trattasse i suoi sudditi piuttosto superbamente e finisce di strabiliare la donna quando si sente chiedere come stanno i bambini dove sono e se la pesca ha dato buoni frutti bene stanno sono a scuola o dalla madre mia solo il piccolo dorme nella cuna la pesca è buona mio marito ti porterà le decime non occorre più usare per i tuoi bambini mi lasci vedere il pargoro vieni la gente si è affollata sulla via dettagli vedete questi sono dettagli che fanno capire addirittura questo è la decima Maria di Magdala quindi era una bella era un bel soggetto insomma che trattava gli altri come pezze da piedi imponendogli anche la decima della della pesca non credo che Maria di Magdala avesse titolo per poterlo fare le decime li scuotevano i sacerdoti nell'antica alleanza insomma una sorta un po' di comportamento un po' tipo cavor tipo mafia tu stai a Magdala qui comando io e mi dai la decima allora Gesù inizia a parlare narra la parabola dell'attacma perduta e termina in verità vi dico che si fa molta festa in cielo e giubilano gli angeli e i buoni della terra per un peccatore che si converte in verità vi dico che non c'è cosa più bella delle lacrime del pentimento in verità vi dico che solo i demoni non sanno non possono giubilare per questa conversione che è un trionfo di Dio e anche vi dico che il mondo come un uomo accoglie la conversione di un peccatore è misura della sua bontà e della sua unione con Dio la pace sia con voi attenzione adesso qui bisogna fare un pit bel pit uno non vi è cosa più bella delle lacrime del pentimento potremmo dare questo titolo anche a questa conversazione di questa sera non vi è cosa più bella delle lacrime del pentimento io lo posso testimoniare degli animi cari perché ho avuto la grazia in quanto sacerdote di ascoltare innumerevoli abbastanza insomma non è che sono così però tante confessioni generali è la cosa più bella è proprio vedere la rinascita la risurrezione di un animo veramente e a volte anche lacrime anche reali di pentimento quando non sono state lacrime evidentemente piante dal cuore perché tu capisci come una persona sta affrontando il suo percorso di conversione beati gli afflitti perché saranno consolati le lacrime del pentimento Dio vuole che piangiamo i nostri peccati attenzione beati gli afflitti perché saranno consolati e se abbiamo fatto qualche peccato magari in passato e non li abbiamo proprio pianti ma pianti a dirotto chiediamo al Signore la grazia e il dono delle lacrime questo si può chiedere questa qui cioè che il nostro cuore si senta proprio trafiggere si senta compunto e pianga e dobbiamo piangere perché abbiamo ci siamo rovinati la vita abbiamo offeso Dio abbiamo rischiato la dannazione siamo stati la causa delle sofferenze di nostro Signore Gesù Cristo e delle lacrime della sua Santissima Madre dell'innocentissima Agnella la Divina Maria quindi per forza che sono le lacrime più belle quelle del pentimento addirittura non c'è cosa più bella al mondo e prosegue solo i demoni non sanno non possono giubilare per questa conversione che è un triunfo di Dio i demoni non giubilano per le conversioni ma Gesù dice come un uomo accoglie la conversione di un peccatore è in misura della sua bontà e della sua unione con Dio rallegrarci per la conversione dei peccatori non rinfacciargli niente non dire ah si ma adesso chi lo sa questo quello che ha fatto ma si si è convertito oppure no ma no ma no ma no ma no non pensiamo mai a queste cose brutte la gente capisce la lezione guarda la mandalena venuta a sedersi sulla porta con il poppante fra le branche forse per darsi un contegno e sfolla lentamente rimanendo solo la padrona della casetta e la madre sua sopraggiunta con i bambini manca beniamina ancora a scuola bene amici la visione è finita adesso si verrebbe un paragrafo veramente molto molto ampio ampissimo ci sono una dodicina di pagine 13 14 di forse anche di più di versione digitale quindi io mi fermerei per non aprire un capitolo che sicuramente può rimanere non soltanto a metà ma proprio nell'incipit appuntamento alla prossima puntata amici miei speriamo presto e che la Santa Vergine benedica e la Madonna Dio vi benedica e la Santa Vergine scusate sempre vi protegga e ci vediamo se vi vuole alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti